Il nostro Presidente del Consiglio Italiano o la nostra Presidente del Consiglio Italiano che dir si voglia, ossia una bella, brava e simpatica Giorgia Meloni, di recente ha fatto una vera e propria visita istituzionale, pensate, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E' stata una visita importante in cui per l'appunto la Meloni si è andata, o meglio si è messa nella condizione proprio di incontrare i vertici più importanti di questa direzione che si occupano di fare antimafia nel nostro paese, in Italia, ma anche antiterrorismo. E' stata una visita a Lampo, da come si legge sul web, dove però non sono mancati, diciamo così, i momenti più importanti, o meglio le discussioni più importanti, che stanno andando a base proprio dell'incontro che c'è stato tra Giorgia Meloni e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale narratore italiano, commentate, ciao a tutti e una buona giornata pure.